Il sociale è un discorso molto caro alla provincia di Teramo. Come ha tenuto a ribadire il vicepresidente della provincia di Teramo, Renato Rasicci, che ha presentato i dati rispettivi all'anno in corso? La provincia di Teramo ha stanziato in base alla legge regionale invece che il 50%, quasi il 70%. Ovviamente bisogna fare tante difficoltà, tanti salti mortali, ovvio qualche piccola difficoltà ci sarà anche per loro, però sicuramente non il servizio, l'assistenza, perché è un loro diritto, il diritto allo studio, l'assistenza. Io ho cercato di fare del mio meglio, ho lavorato, tant'è che abbiamo fatto quattro riunioni con gli assessori al sociale prima della stesura del regolamento, siamo passati nelle commissioni consigliari dove anche la minoranza ha ascoltato e ci ha dato dei consigli per il regolamento, tant'è che poi in Consiglio Provinciale il 3 agosto è passato a maggioranza e l'opposizione politicamente si è astenuta, ma non ha votato contro. Quindi significa che è un regolamento condiviso anche dall'opposizione. Con le somme regionali e col nuovo regolamento che abbiamo applicato quest'anno, io penso per la prima volta faccio le conna, chiudiamo in pareggio, quindi senza lasciare dei debiti.